Onorevoli parlamentari, sono due o tre al mese gli italiani malati terminali che scelgono la Svizzera per andare a morire e sono sei su dieci gli italiani favorevoli all'eutanasia legale. Gli italiani non hanno paura dell'eutanasia, non ne abbia il Parlamento, che invece in questo momento resta immobile e non legifera, in balia di forze politiche frenanti. Lo chiedo gran voce, abbiate testa e coraggio, gli italiani ne hanno.